La trilogia di Ania. L'oscuro signore non è stato battuto. È pronto a conquistare il regno delle sette cime con un nuovo erede. La fuga attraverso il deserto, l'arrivo nel regno dei mercanti, l'inizio di un'altra vita, non allontaneranno Ania dal proprio destino. Una nuova battaglia sta per iniziare. Riuscirà Ania, con l'aiuto del fratello Royce, a difendere la principessa Axe e il regno delle sette cime? Axe e il regno delle sette cime con un'altra vita, non allontaneranno Ania dal proprio